se non avete mai provato a fare il nice cream questa è la volta buona non potrete più resistere diventerà uno dei vostri piatti preferiti oggi vi proponiamo questa versione davvero golosa e sfiziosa il nostro nice cream al cioccolato e peperoncino super cremoso è davvero una goduria per il palato la ricetta è davvero semplicissima ci serviranno solo tre ingredienti il primo sono le banane congelate congelate le tagliate a metà per almeno una notte mature mi raccomando per una persona bastano due o tre banane un cucchiaio di cacao crudo in polvere e un po di peperoncino la quantità è in base al vostro gusto e al tipo di peperoncino ci servirà un mixer con la lama ad esse o in alternativa anche un potente frullatore taglio le banane a pezzi più piccoli aggiungo il cacao in polvere e un pizzico di peperoncino andiamo a frullare la sua consistenza vi stupirà è davvero soffice e cremosissimo andiamo a frullare e poi ha un profumo potete mangiarlo così o in aggiunta metterci delle fave di cacao sbriciolate ancora una spolverata di peperoncino e il nostro nice cream è pronto per essere gustato grazie a tutti